Ciao a tutti! Finalmente in questo video vi mostro il mio nuovissimo calendario dell'avvento di quest'anno e come potete vedere ho scelto di acquistare quello di Essence. Allora vorrei un attimo spiegarvi bene come è nata l'idea e la voglia di acquistare un calendario dell'avvento Beauty. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che già l'anno scorso io avevo acquistato il calendario dell'avvento di Bottega Verde e quindi su Instagram e anche su Facebook se non sbaglio quotidianamente avevo postato le varie caselline e i vari prodotti che avevo trovato all'interno del calendario. Quindi visto che come cosa mi era piaciuta molto e mi ero divertita un sacco e anche voi perché comunque avevo ricevuto dei feedback molto positivi ho detto anche quest'anno assolutamente voglio prendere un altro calendario. Quindi ho iniziato un po' a cercare quelli che c'erano in giro partendo dal presupposto che comunque io non voglio spendere delle cifre molto alte per i calendari dell'avvento perché comunque i prodotti contenuti all'interno per quanto validi, per quanto utili non è che siano prodotti di cui io ho bisogno ma sono prodotti in più extra e quindi è puramente un fattore personale, non è che io investo dei soldi per qualcosa che poi appunto hanno un'utilità pratica e reale nella mia vita quotidiana è sostanzialmente un di più, un regalo che mi faccio e quindi partendo da questa idea non ero disposta a spendere più di una certa cifra. Quindi ho iniziato appunto a guardare un po' quelli che c'erano in giro e tra tutti quelli papabili, sono andata a vedermi i contenuti, vedere che prodotti c'erano eccetera ho deciso di optare per questo qui di Essence. Come vedete è scritto in inglese, Advent Calendar, perché l'ho acquistato sul sito americano e tramite giri vari di colleghi che erano in America eccetera sono riuscita a recuperarlo perché purtroppo qui in Italia io non sono riuscita a trovarlo nel senso che negli OBS o comunque nei negozi che vendono Essence questo calendario non c'è e sul sito io non sono riuscita a trovarlo appunto non so se è un problema mio che non l'ho visto, non so come cercarlo eccetera, anzi fatemi sapere se qualcuno l'ha trovato qui in Italia perché appunto io ho dovuto ricorrere a questo escamotage per poter averlo. Però una volta che l'ho ricevuto sono stata super super soddisfatta. Allora, si presenta in questo modo appunto, c'è scritto Essence, Advent Calendar con questa immagine fortemente invernale e natalizia e si apre, non c'è nessun tipo di chiusura, si apre così e all'interno appunto viene ritratto questo salottino anche qui a tema natalizio c'è l'albero, c'è questa tavola imbandita con dolcetti, biscotti eccetera, il camino, si vedono un po' di regali e su questo scenario ci sono tutte le varie caselline dalla 1 alla 24, quindi questo calendario contiene in totale 24 sorprese so che ce ne sono anche altri che ne contengono magari 12 o 10 e vanno aperti ogni toti di tempo questa invece prevede una casellina per ogni giorno di dicembre dal primo fino al 25 tra l'altro il primo dicembre è venerdì questo, quindi non vedo l'ora di aprire la prima casellina e lo vedremo insieme dietro invece, chiudendo, c'è praticamente l'elenco di tutti i prodotti contenuti all'interno del calendario con i relativi ingredienti, in modo che se qualcuno dovesse avere la necessità di sapere che cosa contengono i prodotti c'è la possibilità di sapere tutti gli ingredienti contenuti allora, i prodotti sono molto vari, nel senso che vanno sia dai prodotti per unghie, prodotti per il viso, labbra, capelli insomma, variano molto ed è uno dei motivi per cui ho scelto questo calendario perché in giro ce ne sono anche molti monotematici, come ad esempio quello di NYX che è solo sulle labbra quindi conteneva tutti i rossetti di varie tipologie per carità, però erano 24 rossetti e quindi uno deve anche essere molto appassionato, deve essere, non so come dire sì, deve utilizzare talmente tanti rossetti da prenderne 24 oppure c'era magari qualcuno focalizzato solo sulle unghie, come ad esempio quello di Sia Te però per quanto mi riguarda era un po' fuori budget, nel senso che costava un po' troppo rispetto a quello che io ero disposta a spendere comunque, a parte questa piccola parentesi, uno dei motivi per cui ho scelto questo calendario è la varietà dei prodotti in particolare all'interno contiene 5 mini smaltini, che sono questi qui, di colori diversi chiaramente contiene una lima per le unghie, in 4 diverse gramature contiene degli sticker per le unghie sempre contiene un temperino dalla doppia punta, quindi per temperare le matite per l'albero, le matite per gli occhi, eccetera sia quelle piccole sia quelle grandi dopodiché è presente una crema a mani due tipi diversi di mascara un kit per disegnare le sopracciglia e le pinzette, sempre per risistemare le sopracciglia un casual un burro cacao trasparente long lasting lipstick, quindi il rossetto long lasting, tipico della collezione di Essence un rossetto matte, quindi opaco rispetto dell'altro un prodotto per lip care, quindi per prendersi cura delle proprie labbra la cipria compatta, che è questa qui bianca molto famosa, che io consiglio assolutamente l'ho già provata ed è valida dopodiché le spugnette tipo beauty blender per il correttore e il fondotinta dei tattoo temporanei per le unghie e per le dita sapete che c'è un trend in cui si utilizza fare praticamente nella parte appena sopra il giro cuticole dei mini tatuaggi decorativi, quindi qui dentro sono presenti poi dei bigliettini di auguri per i regali di Natale dei piccoli sacchettini per fare i regali quindi sono tre se non sbaglio, sì, qui ce ne sono, vengono mostrati tre alcuni elastici per i capelli e infine c'è scritto pocket brush and mirror cioè una spazzola piccolina con lo specchio che si apre da borsetta allora ve li ho letti tutti perché in realtà in questo video non andrò ad aprire le caselline come molti fanno io non voglio farlo perché appunto avendolo acquistato io non me l'ha mandata l'azienda è comunque un prodotto che voglio gustarmi quindi partire appunto da venerdì 1 dicembre aprirò una casellina al giorno per scoprire che cosa contiene il calendario se volete seguire questa mia apertura io ovviamente la voglio fare insieme a voi voglio condividere questa cosa su instagram io quotidianamente farò le stories in cui aprirò la casellina mostrandomi il prodotto e sulla pagina posterò direttamente la foto del prodotto questo dal 1 dicembre al 24 poi penso come ho fatto anche l'anno scorso ed è stato molto apprezzato di fare un video riassuntivo di tutti i prodotti contenuti nel calendario però appunto qui io non mi metterò ad aprire il calendario in anticipo per mostrarvi i prodotti perché comunque è vero potrebbe essere utile ed è il motivo per cui li ho letti in modo che anche voi possiate avere un'idea di quello che il calendario contiene vi faccio vedere anche un po' più da vicino l'immagine spero si veda onestamente se no vi metto la foto comunque vi faccio vedere dietro i prodotti però appunto non voglio togliermi la sorpresa di aprire tutte le caselline insieme prima dell'inizio perché non avrebbe senso è un regalo che mi sono fatta e voglio proprio gustarmi questa cosa di aprire le caselline volta per volta, giorno per giorno quindi fatemi sapere se siete interessati anche voi a questo calendario se oppure ne avete acquistato qualcun altro so che lo faceva anche Sephora quasi tutte le marche l'hanno fatto veramente Sephora Benefit appunto Bottega Verde che però avendolo preso l'anno scorso non volevo prendere proprio lo stesso Yves Rocher so che l'ha fatto appunto NYX un sacco di altri che adesso non mi vengono in mente comunque ho fatto una mega ricerca anche online ci sono un sacco di articoli e quindi insomma è una cosa carina secondo me da fare in questo periodo dell'anno proprio perché a piccole dosi si ottiene qualcosina che diceva che carino magari io non ci avevo pensato però adesso che ce l'ho lo posso utilizzare quindi secondo me l'idea è molto molto carina e io non vedo l'ora di aprire questo e appunto vedere nel concreto tutti i prodotti che vi ho appena letto quindi appunto fatemi sapere se anche voi ne avete acquistato qualcuno e se avete già sbirciato qualcosino come me aspettate il primo dicembre e se volete appunto aprire questo calendario insieme a me mi trovate su Instagram mi chiamo beautyffan tutto attaccato comunque qui sotto nell'info box ci sono tutti i miei link quindi se avete piacere potete appunto iscrivervi seguirmi eccetera in modo che potete vedere i contenuti rispetto al calendario dell'avvento che inizieranno a breve brevissimo mi raccomando vi aspetto un bel pollice in su se vi piace il video e ci vediamo alla prossima ciao